In queste ultime settimane l'attenzione di tutti coloro che seguono i mercati finanziari si è concentrata praticamente su un unico fattore, capire quando le principali banche centrali al mondo inizieranno a tagliare i tassi di interesse. Ovviamente mi sto riferendo a Federal Reserve, Bank of England e BCE, quest'ultima tuttavia possiamo dirlo apertamente è nella posizione peggiore, nella più complicata, per varie motivazioni che cercherò di elencarvi in questo breve video. Ma prima vorrei sottolineare anche un aspetto, se da un lato le banche centrali non sono mai state brave a prevedere e a dare outlook relativamente all'andamento economico dei blocchi di riferimento, dall'altro lato dobbiamo anche, e la storia ce lo insegna, notare che la Bank of England e la Federal Reserve hanno sempre avuto una capacità di reazione più rapida e forse anche migliore rispetto alla BCE che si è sempre dimostrata particolarmente lenta a reagire. Ora, detto tutto ciò, le preoccupazioni, almeno dal mio o dal suo punto di vista, si alzano e anche parecchio. Fatemi sapere poi la vostra all'interno dei commenti perché questo è un video forse leggermente diverso dal solito in cui l'interazione sarà ben ben accetta. Riprendiamo il discorso da quanto già espresso nel precedente video pubblicato sempre qua sul nostro canale YouTube. Ovviamente l'invito ad iscrivervi è reiterato per cercare di rimanere sintonizzati anche su quelle che sono i contenuti molteplici che pubblichiamo settimanalmente sempre qua sul nostro canale. Il pericolo e la paura principale delle banche centrali oggi è la seconda andata di inflazione che potrebbe arrivare e non potrebbe arrivare quindi tutti quanti sono sempre lì a mettere ancora una volta e ad imporre cautela su facili entusiasmi dedicate appunto ai tagli possibili e potenziali dei tassi di interesse. Ma è davvero così? Cerchiamo di fare subito un sunto della situazione confrontando l'andamento dell'inflazione Stati Uniti, Europa e Regno Unito. Grafico alla mano cosa vediamo? In colore azzurro troviamo l'andamento dell'inflazione negli Stati Uniti, in colore grigio l'andamento dell'inflazione nell'area euro e infine con il colore amaranto l'andamento dell'inflazione nel Regno Unito come potete notare l'inflazione sta scendendo più rapidamente in Europa, ultima rilevazione 2.4% rispetto a rilevazioni più alte del 3% sia in territorio statunitense che in Regno Unito, il che ci porta ad un ulteriore punto di domanda perché anche i membri del board della BCE continuano a ritirare questa paura di una seconda ondata. Arriverà anche da noi, come aveva sempre detto, l'inflazione è alimentata sia dal lato domanda che dal lato offerta. CRB Index, ve lo faccio vedere anche la scorsa settimana, si è riportato sui massimi del 2022, quindi lato offerta c'è questo fattore. Lato statunitense, lato domanda, visto che l'economia risulta essere sempre forte nonostante l'ultimo dato pubblicato qualche ora fa della nuova rilevazione del PIL su base trimestrale, tuttavia disoccupazione, non farm, mostrano ancora una volta forza. Quindi anche il lato domanda alimenta e tra virgolette facilita la visione e o meglio facilita le preoccupazioni della Federal Reserve perché entrambi i fattori portano a dire beh c'è ancora un'economia piuttosto forte, c'è dall'altro lato un campo materie prime e prezzi delle materie prime che invece hanno visto in queste ultime settimane una violenta salita il che le preoccupazioni sono ben giustificate. Ma lato Europa? Lato Europa sì, lato offerta quindi il rialzo dei prezzi delle materie prime può sicuramente destare preoccupazione ma dall'altro lato l'economia come sta andando? Beh non sta andando bene e neanche le proiezioni, qua prendo un organo, il Fondo Monetario Internazionale che nell'ultimo report proprio di aprile 2024 ha sancito questi dati. Proiezione al 2024 di economie che hanno davvero delle marce diverse. Stati Uniti previsto una crescita del PIB del 2.7%, in Europa una crescita prevista del 0.8%, fa peggio il Regno Unito dove la proiezione ci porta ad un frazionale più 0.5%. Ma allora perché reiterare questo mantra di tenere i tassi a lungo in Europa? E soprattutto perché, questa è una domanda che potrei riportare magari in una conferenza stampa, non ho l'accesso, alla sala stampa della Banca Centrale, ma perché continuare a ripetere guardiamo oltreoceano per capire cosa fare? La situazione economica è totalmente diversa, si è acuita particolarmente in questi ultimi mesi in queste ultime settimane. E soprattutto la domanda che mi faccio oggi è, ma l'economia europea e di conseguenza le aziende potranno sostenere ancora una volta questa politica monetare di tassi alti più a lungo? A me verrebbe da dire di getto di no, per tutte quelle che sono vari fattori, in primis dato che guardiamo sempre i mercati finanziari, ma ci rendiamo conto che al loro arco da mettere in campo per difendersi magari da quello che è un ambiente così ostinato, così difficile come quello dei tassi alti, che magari le aziende europee non hanno in questo momento. E quindi il prolungare questo periodo di tassi alti, cosa potrebbe accendere? Potrebbe accendere quello che nessuno nomina, cioè una crisi economica più ampia del previsto. Poi da lì, quando le cose si complicano, essere rapidi è fondamentale. La bici non l'aveva stata, capite che sembra essere un sasso che sembra partire dall'apice di una montagna che nella sua corsa arrivasse o potrebbe diventare sempre più grande e sempre più difficile da fermare. Quindi la mia preoccupazione si fonda principalmente su questo timore. Non so voi. E se in questa prima parte di video ho alimentato un po' i timori, vorrei comunque spezzare una lancia a favore della BCE, perché come vi dicevo all'inizio è nella situazione più complicata. Se e qualora dovesse anticipare il primo taglio tassi, le ripercussioni sul cambio euro-dollaro potrebbero essere immediate con una discesa dello stesso, il che ci porta a che cosa? Una discesa delle quotazioni del cambio ad un fattore secondario, ma non da sottovalutare, e cioè l'importazione di inflazione a causa dell'andamento del cambio stesso. Tutte le principali materie prime sono scambiate in dollari. La discesa quindi del cambio potrebbe alimentare questo fattore, il che giustifica le preoccupazioni relative all'inflazione da parte dei membri principali della BCE. In secondo luogo mi viene in mente Davide Serra di Algebris, perché qualche mese fa aveva fatto notare un qualcosa di piuttosto singolare, e ve lo mostro immediatamente dal grafico. Confrontare l'andamento dell'inflazione europea con quella danese. Perché l'andamento dell'inflazione in Danimarca sembra essere stato un benchmark anticipatore rispetto poi agli avvenimenti avvenuti in Europa. E grafico alla mano potete notare che in linea blu l'andamento dell'inflazione in Danimarca dal bottom dell'ottobre 2023 ha visto una seppur timida, ma una risalita al contrario di quello che sta avvenendo in Europa. Quindi l'inflazione in Danimarca anticipatrice e quindi potenzialmente potrebbe esserci una risalita dell'inflazione anche in Europa. Beh, se la mettiamo così, come vi dicevo prima, anche questa è una lancia che viene spezzata a favore delle dichiarazioni ultime di Christine Lagarde e così via. E quindi fanno bene ecco essere preoccupati di una possibile e nuova ondata di inflazione. Magari non come quella avvenuta due anni fa, ma tuttavia è il fattore principale di preoccupazione. Quindi ho cercato di essere abbastanza equilibrato. Ora, le preoccupazioni però la fanno come sempre da padrona. E sui mercati quale potrebbe essere il riflesso principale? Come vi dicevo prima, cercare di capire se le aziende potranno sostenere questi tassi alti più a lungo. E il che mi riporta anche qua ad un grafico che mostra l'andamento dei principali listini europei. Il nostro Fuzzimib e il DAX confrontato all'S&P 500. Verde e blu l'andamento di DAX e FIB. Arancione l'andamento dell'S&P. Ma se ci dovesse essere un peggioramento improvviso dell'economia e di conseguenza dovessero arrivare dei numeri da parte delle aziende europee nelle prossime magari rilevazioni e nei prossimi aggiornamenti delle trimestrali che potrebbero far correre ai ripari le aziende stesse e far peggiorare i numeri pubblicati. E' chiaro che il pericolo per una discesa maggiore dei listini europei ancora una volta si acquirebbe rispetto magari anche a quelle che potrebbero essere correzioni per il mercato statunitense. Ma come vi dicevo prima, le mega cap hanno sempre un jolly nella manica e non ce lo dimentichiamo. A mio avviso le aziende europee non ne hanno. Ecco, questo mi riporta ancora una volta all'invito, alla cautela, all'invito a tutti coloro che fanno investimenti e vogliono anche speculare sui mercati finanziari a prendere coscienza di queste visioni, di queste view. Ma questo ci riporta anche a cercare di utilizzare strumenti adatti a minimizzare il rischio da mettere in campo quando si parla di appunto investimenti sui mercati, speculazioni sui mercati finanziari. Ancora una volta ci tengo a ringraziare Fontober, il partner sponsor di questo video. Trovate il link in descrizione che vi riporta all'interno del sito ufficiale. Tanti sono gli strumenti a vostra disposizione, ma se siete davvero speculatori accaniti prendete in considerazione magari alcuni turbo certificati. Strumenti a mio avviso molto interessanti per quanto riguarda proprio la speculazione. Potrebbero fornire innanzitutto quello che è un principio di frenata del rischio e soprattutto da lì possono anche darvi delle importanti soddisfazioni qualora il mercato dovesse intraprendere la vostra direzione, ovviamente long o short che sia. Sono strumenti da studiare a mio modesto avviso e da poter mettere lì accanto a noi eventualmente da tirar fuori nel momento più giusto. E quindi la domanda, visto le mie ultime parole, è questo il momento giusto di andare ancora una volta ad alimentare alcune preoccupazioni, magari di fare alcune scelte ancora una volta importanti? Fatemi sapere la vostra. E soprattutto vi faccio vedere davvero un ultimissimo grafico che ci mostra l'andamento del mercato obbligazionario europeo e statunitense, chiaramente, con i benchmark di riferimento Bund e T-Note. Se ci fate caso in questo ultimo periodo si è ampliato ancora una volta questo spread, non quello tra BTP e Bund, ma spread tra T-Note e Bund. Ci troviamo oggi in una divergenza, in uno spread appunto, che in termini percentuali al momento è il secondo più alto della storia. Il primo, il più ampio, è praticamente, o meglio, si è venuto a verificare nel 2018. Questo potrebbe essere un ulteriore spunto di riflessione, magari per un prossimo contenuto. Ma concludendo, quello che vi ho elencato può, ancora una volta, preoccuparvi. La BCE è nella posizione più difficile tra le principali banche centrali e soprattutto farà la mossa giusta e col timing giusto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Questo chiaramente per cercare di evitare un avvitamento negativo economico e finanziario. Spero ancora una volta che questi contenuti possano esservi utili. Io, come sempre, vi ringrazio anticipatamente, vi auguro una buona giornata e vi attendo. Al prossimo video! Grazie! 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 Grazie!